Project Farm, il podcast. Benvenuti in questo nuovo episodio podcast, io sono Marco e oggi parleremo di contoterzismo. Prima di adentrarci nell'argomento di questa puntata, voglio presentare e dare il benvenuto al primo ospite del podcast. Ciao Ivan! Ciao! Tutto apposta? Tutto bene, grazie! Ti voglio ringraziare per essere qui, ti ringrazio anche per tutto l'aiuto che mi hai dato anche in questo periodo e anche prima e ti voglio ringraziare anche per aver dato il tuo supporto al podcast sia in questa puntata e sia anche in quegli episodi che verranno dopo. Ma io ringrazio te per avermi invitato perché è un'idea del genere, non l'ho mai vista su YouTube, poi è una cosa abbastanza interessante dal punto di vista per chi gli piace l'agricoltura in generale e poi entrando proprio nei particolari come sto vedendo che vogliamo fare, deve essere molto interessante. Sì esatto, l'idea è quella di creare soprattutto un confronto anche tra varie realtà, considerando anche oltre gli aspetti geografici anche magari quella che è proprio la cultura agricola di una zona. Di che cosa ti occupi tu? Allora io adesso come adesso lavoro in un'azienda agricola, ha indirizzo cerealicolo e zootecnico, però io in generale mi occupo soprattutto di un impianto biogaso che consiste nel sia come dire gestire l'impianto in sé, ricaricarlo con insilato, rifiuti zootecnici, cioè letame e liquami e poi mi gestisco anche i motori che sono quelli che creano l'energia, cioè energia elettrica e energia termica. L'energia elettrica viene immessa logicamente in rete e invece quella termica viene riutilizzata dall'azienda ad esempio per scaldare le stalle o per scaldare lo stesso impianto biogaso durante l'inverno che non vada sotto una certa temperatura. A proposito del riscaldamento invece io ho visto un impianto di biogas che invece riutilizzava l'aria calda per alimentare un essiccatoio per balle, per essiccare il fieno. Eh lì ci sono i nuovi impianti che sono a tutt'ora molto più avanzati, però l'impianto che gestisco io penso è stato il primo del Piemonte, quindi ha 11 anni adesso e allora certi sistemi non ce l'ha, ce l'ha con quelli di base per ora, però man mano ci stiamo volendo, ad esempio abbiamo iniziato ad installare i primi pannelli di controllo diciamo un po' più tecnologici perché prima erano tutti analogici e adesso sono tutti digitali, almeno diciamo è anche un po' più semplice intervenire quando il biogas ha qualcosa che non va diciamo. Vabbè certo, riesci a controllare meglio. Sì, gestisci decisamente molto meglio, prima devi metterti lì e farti dei calcolini prima di capire cosa c'era che non andava, invece adesso c'è l'allarme e tac ti arriva sul telefono, è molto. Il lavoro al biogas è quello principale, quindi che ti occupa tutte le ore lavorative o ci sono anche altre attività che segui? Allora, il principale è il biogas, cioè se c'è qualcosa che non va al biogas io devo occuparmi di quello, altrimenti diciamo che devo anche aiutare in campagna a smaltire i liquami, a fare le lavorazioni del terreno come il passaggio del rototerra o aiutare nelle semine perché mi occupo anche di quello e sì, diciamo che durante l'inverno c'è anche meno da fare, mi occupo anche della manutenzione dei mezzi, cioè trattori e attrezzi in generale. Quindi a 360 gradi praticamente? Non proprio a 360 gradi ma quasi perché ad esempio delle stalle non me ne occupo per niente, ci sono altre persone, però diciamo sì, mi occupo abbastanza di tante cose dentro l'azienda, però il mio ruolo principale è il biogas. Vedi anche un tuo futuro nel biogas oppure magari ti piacerebbe fare qualche altro indirizzo? Magari cerealicolo, zootecnico? Non lo so, adesso sono lì, non sto ancora pensando tanto al futuro, diciamo così. Sono all'inizio lì, prima voglio svolgere bene il lavoro che sto facendo e poi più avanti forse capirò qualcosa altro, non lo so. Anche perché tu hai finito quest'anno, no? Cioè l'anno school 2019 con l'istituto agrario, giusto? Sì, mi sono diplomato all'istituto agrario tecnico, ho preso il diploma e un mese dopo ho iniziato subito a lavorare. Potevo decidere se andare a fare l'università, però diciamo che non è che ho tutta sta voglia, ho iniziato subito a lavorare. Ognuno poi ha anche le sue strade, le sue decisioni, anche le sue idee. Senti, abbiamo fatto un'introduzione, quindi più o meno abbiamo capito anche di cosa ti occupi, quali sono le tue basi, diciamo, le tue basi agricole e ti volevo fare una domanda un po' filosofica. Se io ti parlo del contoterzismo, qual è l'immagine che ti viene in mente? Allora, il contoterzismo ce l'ho abbastanza in mente perché anche nell'azienda che lavoro le chiamiamo quando abbiamo bisogno. Allora, il contoterzista, diciamo, per l'immagine da parte di quello lì che ingaggia il contoterzista è un aiuto. Il contoterzista un'azienda lo chiama quando si rende conto che o ha bisogno di una persona in più per svolgere un lavoro perché mancano il tempo. Facciamo un esempio, per un periodo ha piovuto tanto e c'è solo più un arco di tot giorni, ad esempio seminare, allora chiami qualcuno che ti venga aiutare per svolgere il lavoro più in fretta possibile. E allo stesso tempo bene, perché volendo puoi farlo anche da solo, ma poi fai un disastro. Un altro motivo per cui chiami il contoterzista che ultimamente è molto più usato è perché il contoterzista, diciamo, ha la possibilità, anzi, forse è meglio dire, al dovere di stare sempre al passo con le tecnologie, cioè avere sempre i migliori macchinari perché è il suo lavoro. E allora l'agricoltore tante volte va a chiamare un contoterzista perché non ha la possibilità di acquistare un macchinario che costano, diciamo, hanno i loro costi e allora per, come dire, fare sempre un buon lavoro ma rientrarci va a chiamare il contoterzista perché logicamente un macchinario, un contoterzista se lo riesce a ripagare perché facendo molte ore lo ripaga. Un agricoltore, diciamo, medio, se non ha una tote superficie o un tote bestiane non può ripagarsi certi macchinari e allora interviene il contoterzista. Oltre a quello che hai detto tu, invece, mi viene in mente anche un'altra immagine che è la trebbiatura che si faceva, tipo, negli anni, negli anni trenta perché questi macchinari venivano visti come fantascienza perché tutti erano entusiasti quando viene il terzista, viene il terzista, quindi in campo si venivano questi macchinari mai visti, c'erano tantissime persone poi che venivano di là nel campo ad aiutare ed era anche una grande festa. Ero solo lì perché poi una volta che erano tutti abituati a lavorare a mano, poi a forza di gruppo vedere questi macchinari enormi che arrivavano e riuscivano a fare il lavoro loro in meno tempo. Non dico meglio perché una volta non era meglio, però in meno tempo e con meno fatica. Anche un'altra immagine, ad esempio, dove l'agricoltore doveva magari arare i campi però non aveva animali da train, aveva magari solo l'asino e quindi chiamava magari il vicino, aveva due buoi e era il campo. Sì, erano le prime forme di contoterzismo, però era più forse un contoterzismo amichevole secondo me, perché era da vicino a vicino, non era ancora un vero e proprio lavoro, però sì, diciamo che erano le prime forme. Una componente fondamentale del contoterzismo è anche per capire come mai il contoterzismo sia anche una parte fondamentale della nostra cultura agricola e appunto la sua componente storica. Sia io sia Ivan abbiamo appunto descritto delle immagini che si riferiscono a dei momenti storici della nostra agricoltura in cui appunto il contoterzismo è stato fondamentale. Ad esempio appunto ai primi del Novecento quando iniziano con le prime associazioni di contoterzisti o le prime macchine. Poi ad esempio appunto i periodi tra le due guerre mondiali dove tra le varie crisi la mancanza di mano d'opera e la richiesta immediata di beni soprattutto agricoli hanno reso necessario una meccanizzazione sempre più profonda e importante a livello agricolo. E quindi queste associazioni dovevano dovuto organizzarsi, improntare la propria direzione, proprio diciamo futuro nello sviluppo del parco macchine e non solo anche a livello di parco macchine ma anche come lavorazioni. Se poi pensiamo anche al dopoguerra e al boom economico con la crescita non solo a livello agricolo ma anche di società. Quindi non solo tecnologia ma anche burocrazia. Il contoterzismo si è dovuto adattare alla nuova burocrazia in campo agricolo ed è quindi il contoterzismo come ha detto anche Ivan è sempre andato di pari passo a quello che è stato l'evolversi dell'agricoltura sia in campo come lavorazioni e come macchinari ma anche appunto sia come tecniche e anche come burocrazia e aspetti diciamo un po' meno pratici ma più tecnici. Un passo fondamentale del contoterzismo è diciamo più o meno negli anni 2000 quando anche a livello di società la tecnologia inizia a prendere un posto sempre più importante. Parlo ad esempio di cellulari o computer. Cosa succede? Che questo balzo tecnologico entra anche a far parte del mondo agricolo e quindi a quel punto anche il contoterzismo evolvendosi entra in una nuova era quindi lascia diciamo quello che è stato il suo cammino storico ed entra in quello che è il suo cammino presente ma anche futuro perché il contoterzista a questo punto non fa più solo il lavoro diciamo in campo o si occupa solo del macchinario di acquistare macchinari ma si specializza e sviluppa delle competenze e delle tecniche anche per gestire gli aspetti più o meno pratici quindi a 360 gradi a livello a livello agricolo. Abbiamo visto quindi quelli che sono gli aspetti storici e l'importanza del contoterzismo nella nostra cultura agricola. Quali sono le figure protagoniste del contoterzismo? Sicuramente la prima figura è quella del contoterzista mentre la seconda figura è quella di chi ingaggia il contoterzista. Ivan partendo dalla figura del contoterzista puoi leggere la definizione che Wikipedia dà del contoterzista. Allora il contoterzista è in agricoltura un fornitore di servizi agromeccanici e tecnologici ad agricoltori terzi. Svolge dunque una serie di lavorazioni meccaniche non si limita a fornire la mano d'opera e mezzi tecnici necessari alla lavorazione ma anche consigli necessari alla produzione e questa è la definizione. Io mi vorrei focalizzare appunto sull'ultima frase perché un po' riassume tutto quello che ora è stato detto per quanto riguarda l'aspetto storico ovvero nell'ultima frase si dice che il contoterzista non si occupa solo dei lavori in campo ma si occupa anche di dare tutti quei servizi utili da chi viene ingaggiato per portare avanti la propria azienda. Questo secondo me è anche un passo fondamentale che rappresenta la figura del contoterzista perché va naturalmente a combacciare con quella che è stata l'evoluzione del contoterzismo ovvero anche il contoterzista di conseguenza si è evoluto di pari passo a quello che è stato l'evolversi dell'agricoltura. Come dicevi te sei partito da un semplice tra virgolette lavoro nei campi vado magari ad aiutare la persona che ha bisogno un amico che ha bisogno per arrivare a una figura che va ad evolversi fa specializzarsi sempre di più e sviluppando delle competenze e anche delle capacità proprio per gestire a 360 gradi la realtà in cui si trova. Quindi qua ci viene in aiuto una nuova figura che rappresenta il contoterzista che io l'ho ribattizzata utilizzando una serie tv americana dicendo agromeccanico is the new contoterzista perché questo l'agromeccanico è la nuova figura del contoterzista questo perché l'agromeccanico riassume in sé quello che è stata l'evoluzione del contoterzista quindi dalla storicità delle lavorazioni quindi la parte meccanica con la parte diciamo agro che rispiecchia tutte quelle che sono le esigenze dell'agricoltura moderna. Ho in testa una figura mitologica che è Cerbero. Praticamente Cerbero è cani a tre teste nel suo lavoro mitologico faceva la guardia all'ingresso degli inferi. Naturalmente il contoterzista non fa questo lavoro però come figura rappresenta secondo me quello che è la nuova azienda del contoterzista. Il cane Cerbero ha appunto tre teste quindi tre personalità che si devono confrontare che devono diciamo vivere insieme per poter adempire al loro lavoro e così secondo me succede anche in un'azienda contoterzista dove ci sono tre figure, tre teste che devono collaborare, devono ritrovarsi, devono avere un ideale, devono avere un percorso affinché possano portare avanti non solo la propria azienda ma che possa essere anche un punto di riferimento per chi si affida ai loro servizi. E queste tre figure sono la manodopera quindi diciamo i dipendenti, gli addetti alle lavorazioni, l'agronomo e l'imprenditore agricolo. Un altro aspetto poi in comune che hanno Cerbero e l'azienda del contoterzista è appunto la figura stessa ovvero pur avendo queste tre teste, entrambi rappresentano un'unica figura, quindi un unico cuore e un unico obiettivo. La manodopera e l'agronomo per me sono le teste di sinistra o di destra del cane mentre l'agronomo e l'imprenditore agricolo per me è la testa centrale, quello che diciamo deve mediare fra tutte queste tre personalità affinché appunto possa portare avanti il proprio lavoro. Per quanto riguarda la prima testa, cioè la manodopera, questa è importante non solo perché va a fare la lavorazione presso l'azienda cliente ma perché in quel momento oltre a rappresentare l'azienda del contoterzista e in lui, in questa figura, sono affidate, sono date tutte le aspettative del cliente. Quindi il giudizio dell'azienda cliente si baserà sul lavoro che il contoterzista farà in campo. Senti Ivan, per quanto riguarda la manodopera, chi ingaggia ad esempio come te il contoterzista? Che cosa si aspetta dal lavoro del contoterzista? Cioè quali sono le tue valutazioni? Cosa annoti quando loro vengono a lavorare? Cosa ti aspetti? Allora, se io ingaggio un contoterzista allora mi aspetto che mi arrivi una figura preparata prima di tutto e che sia anche migliore di me perché nel senso, come ho detto prima, in teoria il ruolo del contoterzista è avere sempre un parco macchine sempre aggiornato e avere anche delle competenze molto elevate. Quindi il lavoro, uno che lo ingaggia lo pretende fatto bene, con anche una qualità maggiore. Faccio un esempio, poco tempo fa noi abbiamo ingaggiato dei contoterzisti per portare via dei liquami del digestato perché dovevamo, come dire, avevamo il bollettino, c'è la direttiva nitrati riguardante i liquami e gli agricoltori hanno degli archi di tempo in cui possono portare i liquami nei campi. Esatto. Noi, avendone tanti perché arrivando sia a zootecnico che biogas, quindi digestato, ne avevamo parecchio, abbiamo dovuto chiamare dei contoterzisti e loro sono arrivati, logicamente, perché boh, le chiami è il loro lavoro, però sono arrivati con attrezzature molto all'avanguardia a confronto alle nostre e, difatti, il loro lavoro in certi casi era anche migliore del nostro. E, appunto, abbiamo chiamati per svolgere il lavoro più velocemente e anche in modo migliore. Un altro esempio del contoterzista è la semina, quello lì è un classico, soprattutto per il mais. Ultimamente, perché lì adesso c'è la semina di precisione, logicamente più il mais è ben seminato, meglio è altri esempi. Chiamare il contoterzista per il passaggio del trampolo, non so se sapete cos'è. Sarebbe il macchinario per passare l'insetticida sopra il mais, quello lì che si alza. Da noi lo chiamiamo il trampolo che si alza. Sarebbe, come si chiama in modo... Sì, tipo il fend, tipo la pantera. Esatto, sì, dell'amazzone. E quello lì è l'esempio classico, perché un agricoltore non va a comprare un macchinario del genere per poca terra. Chiami il contoterzista ed è meglio. Lì è proprio l'esempio lampante. Poi c'è la trebbiatura e la trinciatura, lì sono altri esempi anche abbastanza importanti. Sulla trinciatura, ad esempio, a me è venuta in mente una cosa dalle mie parti in Sardegna, l'Arborea. È praticamente un mini-mini Veneto. Quindi la trinciatura e soprattutto l'insillato di mais per le vacche è molto importante. E di là ognuno chiama un terzista di riferimento perché dicono Ma io il trinciato lo voglio tagliato così, lo voglio un po' più fine, lo voglio fatto così. E quindi ognuno poi ha il suo terzista di riferimento perché dice No, quello me lo taglia meglio. Quella è anche una cosa molto discussa perché c'è sempre il contoterzista. Sì, perché come sempre c'è il contoterzista che tratta molto meglio i suoi macchinari, cioè fa manutenzione, poi le aggiorna, se non vanno più bene le cambia. E poi c'è sempre il contoterzista che invece rimane indietro. E comunque sì, come hai detto te, ci sono... Qua per la trinciatura molta gente fa attenzione al contoterzista, cioè al macchinario che arriva, che sarebbe la trincia, per come taglia l'insillato. Ma lì più che l'agricoltore in sé è l'agronomo che interviene. Proprio guardare perché in base alla dimensione dell'insillato che viene sminuzzato, c'è una diversa... perché la vacca è composta da quattro stomaci e per digerire lei rumina. Difatti il primo stomaco è il rumina. Se noi gli diamo pezzi troppo piccoli, lei non rumina, cioè non... Non si mette in moto. Ecco, non si mette in moto, diciamo così. E la vacca ha poi problemi negli altri stomaci. E invece c'è proprio una misura perfetta. La misura perfetta sarebbe due centimetri. Però logicamente non è che la trincia può farle perfette. Ecco, il ruolo dell'agronomo è quello, intervenire sui particolari. Poi c'è l'umidità. Anche se il maestro è malato, in base a quello, trincia anche in modo diverso. Perché se il maestro, ad esempio, prende una certa malattia, perde anche la consistenza della pianta, e allora lì tocca al conto terzista cambiare il metodo di trinciatura. Lì sono piccolezza, però... Che ti aspetta dal conto terzista o da una figura, diciamo... Preparata. Esatto, preparata, che hai chiamato apposta. Hai introdotto l'agronomo. L'altra testa, diciamo, dell'azienda del conto terzista. Che cosa fa l'agronomo? Qual è l'aiuto che dà l'agronomo a un conto terzista? Come hai detto te, una volta l'agronomo non esisteva. Non esisteva proprio come figura. Era entrata negli ultimi tempi. E diciamo che anche gli agricoltori lo stanno accettando ultimamente, perché non è mai stato accettato. Velo. Questo l'ho notato anch'io, sì. Perché l'agronomo, boh, arrivava lì, diceva parole al vento per un agricoltore normale, e quindi non era ben accettato. Adesso, ultimamente, perché, diciamo, con l'introduzione della scuola obbligatoria, quindi anche i figli degli agricoltori andando a scuola, diciamo che c'è stato... Un'accettazione. Ecco, un'accettazione. Gli agricoltori cominciavano a prendere coscienza che quello che dice in realtà è anche vero. Non sempre, ma... A qualcosa serve. A qualcosa serve, diciamo così. Infatti, l'agronomo, se non ci fosse l'agronomo, secondo me, neanche il conto terzista potrebbe esistere. Il vero conto terzista. L'agronomo è fondamentale, perché senza di lui non si può arrivare a un raccolto, non diciamo perfetto, ma adeguato. Esatto, esatto. Infatti, non a caso, ho messo come testa centrale l'imprenditore. Esattamente. Gli è piaciuto veramente un sacco. Il titolare dell'azienda che, oltre a fare il suo lavoro, deve anche, appunto, come diceva Ivan, fare la quadra fra tutte le teste pensanti. Perché da una parte c'è il dipendente, che magari dice, ma mi trovo male magari con quella macchina, non mi piace quel trattore. Quindi l'imprenditore agricolo non è che può comprargli quel tipo di trattore e quello del lavorare male. Pure l'agronomo deve stare attento a quelli che sono i consigli dell'agronomo. Perché ad esempio, se l'agronomo ti dice, no, questa cultura qua non funziona, e tu ne pianti tutti i 100 ettari è un problema. O se consigli di piantarne a qualcun altro è un problema. Quindi l'imprenditore agricolo è anche la testa di riferimento per quanto riguarda il cliente, chi lo ingaggia. L'imprenditore agricolo è quello, diciamo, che mette la faccia, quello che deve dare supporto al cliente, sia portandoli delle persone qualificate che possono fare un lavoro che il cliente si aspetta, sia gestire quello che è il, diciamo, il back office, quello che è il front office, pure gestire quelle che sono magari le lamentele del cliente. E un altro aspetto fondamentale dell'imprenditore agricolo è quello, naturalmente, degli investimenti. Quindi se l'imprenditore agricolo non investe nella giusta tecnologia, non investe nella giusta direzione, oltre a rovinare la propria azienda, naturalmente rischia poi di rovinare anche quella che è la sua realtà, la sua realtà agricola. Perché naturalmente il cliente si basa sul tuo servizio, quindi di conseguenza ne subisce tutte quelle che sono anche le conseguenze di qualcosa quando va male. E quindi io vedo appunto il nuovo imprenditore agricolo che gestisce le due figure, la mano d'opera e l'agronomo, per appunto andare in una direzione che è quella appunto il più possibile verso il futuro della propria azienda. Quindi l'imprenditore agricolo è quello che fa, quello che prende le giuste decisioni per poi il futuro della propria azienda. Sul conto terzista vorrei concludere, utilizzando anche le tue parole Ivan, dicendo che appunto il conto terzista in questa agricoltura moderna, secondo me ha una grossa responsabilità. Perché con le proprie capacità sia in campo, con le lavorazioni, sia a livello gestionale, può garantire sviluppo e innovazione non solo alla propria azienda, ma anche all'azienda, i suoi clienti, quelli che segue, in quanto condivide con loro appunto tutta questa innovazione che altrimenti magari non potrebbe essere utilizzata da tutti. Ma infatti come dici te, ti dici anche che il conto terzista, anche lui ha una sua impresa agricola come tante ce l'hanno, nel senso che hanno la loro terra propria per lavorarla. Ma adesso come adesso ci sono proprio conto terzisti che fanno solo i conto terzisti. E quindi lì è più una gestione aziendale, ma basta, solo fare il conto terzista. E invece ci sono addirittura aziende agricole che hanno la terra, ma se la fanno solo lavorare dai conto terzisti, senza che loro intervengano. Perché ultimamente certi costi è più conveniente chiamare il conto terzista che farsi da sé, perché il conto terzista arriva con un macchinario decisamente più grande, logicamente, e quindi fa il lavoro più velocemente e più ben fatto. E a costi accessibili. E a costi accessibili, senza che tu devi andare a comprare quel macchinario lì e spendere capitali che non ti rientreranno mai, anche per quei prezzi che ci sono adesso in agricoltura. se non punti sulla qualità e quantità, perché in Italia si parla solo di qualità, ma c'è sempre bisogno anche della quantità, secondo me. Questa, diciamo, era la figura del conto terzista. Naturalmente ora vediamo un po' quello che, diciamo, deve fare invece chi ingaggia il conto terzista. Cerchiamo di fare, diciamo, un identikit di chi ingaggia il conto terzista. Partendo quindi dal chi, Ivan, per quanto riguarda la tua esperienza e anche quella che è la tua realtà agricola, chi o quali sono le persone o le aziende agricole che ingaggiano il conto terzista? Allora, la principale che mi può venire in mente è che è più semplice, diciamo, una classica azienda agricola piccola, che quindi può darsi che non abbia neanche tutti i tipi di macchinari e attrezzature, allora non riesce a svolgere tutte le attività in campo. ad esempio c'ha l'aratro, quindi riesce ad arare da solo, però non c'ha l'erpice rotante e quindi devi chiamare il conto terzista a passargli l'erpice e poi lui semina o non ha neanche la seminatrice e deve anche farsi seminare il campo. O altrimenti entriamo già in realtà diverse, tipo aziende che hanno tutti i tipi di attrezzature, ma avendo tutti i tipi di attrezzature, però, ad esempio, come ho detto all'inizio, c'è stato un problema, il meteo non è stato dalla loro parte e allora l'arco del tempo si è ristretto e allora abbiamo bisogno di una mano e chiamiamo un conto terzista che ci dà una mano a velocizzare le lavorazioni. Poi un altro esempio, tipo nel mio, azienda grande, abbiamo bisogno di aiuto per problemi vari, dobbiamo chiamare dei conto terzisti e darci una mano. Allora, un'altra cosa che mi è venuta in mente, oltre a quello che hai già detto tu, sono anche tutte quelle realtà agricole dove magari, per varie ragioni, non c'è più una figura che si occupa dell'azienda. Esatto, e con questo mi ha fatto venire anche in mente un'altra cosa. Oltre a quello lì che ti dicevi, perché abbiamo, ad esempio, il nostro nonno che non ce la fa più e noi, tipo, facciamo un altro lavoro, però chiamiamo il conto terzista per aiutarci. Questo mi ha fatto venire anche in mente la gente, i giovani che aprono aziende nuove, però non hanno subito la possibilità di acquistare macchinari, però devono, come dire, per far andare avanti l'azienda hanno bisogno di fare certe lavorazioni. Allora cosa fanno? Chiamano il conto terzi. In base alla tua esperienza, c'è una lavorazione che viene richiesta ad un conto terzista più spesso delle altre? Allora, la principale che mi viene in mente è la trebbiatura e la trinciatura, perché allora lì entra sempre in ballo la questione dei costi e del rientrarci, perché logicamente acquistare una metitrebbia e una trincia hai sui costi molto elevati e poi prima che rientrano ce ne vuole. Poi altre lavorazioni che ultimamente sto vedendo che intervengono molto i conto terzisti è la semina, perché adesso con la questione della semina di precisione, poi calcoli metro per metro, le aziende non possono subito permettersi certi macchinari e allora fanno attivamento sui conto terzisti e la semina è molto importante. E un'altra è sempre la questione, non tanto per la concimazione, perché lì le aziende riescono ancora a arrangiare abbastanza da sole, ma soprattutto per il fatto degli insetticidi, fungicidi, allora lì si intervengono i conto terzisti, perché hanno sempre i macchinari più aggiornati, più tecnologici, che riescono ad andare in mirare, per essere più precisi e colpire in modo più efficiente la malattia che c'è sulla pianta o l'insetto. Facendo così riduciamo anche la quantità di prodotto, perché i prodotti per le malattie e gli insetti costano un sacco di soldi, veramente un sacco di soldi e così riduciamo sempre i prezzi. Sì, poi c'è sempre la ratura, la verpicatura, ma lì ci sono questioni più tempistiche secondo me. Allora, abbiamo individuato e capito chi è e cosa chiede e chi ingaggia il conto terzista, ma tutto ciò può magari generare degli attriti o delle incomprensioni con il terzista? Ad esempio magari quando un campo è lavorato da entrambi? Allora, attriti logicamente ci sono perché sono due figure, quindi ci sono due punti di vista. In generale il conto terzista non si lamenta mai perché il suo lavoro è venire lì e fare quello che tu gli chiedi. Lui è pagato per fare quello. E allora non c'è quasi mai una lamentela dalla parte del conto terzista. Invece dalla parte di chi lo ingaggia è molto più probabile avere una lamentela perché tu, logicamente pagando, pretendi un certo tipo di lavoro. Anche perché un conto terzista lavora in tante aziende, quindi ha diversi punti di vista perché uno vuole che tu lavori a una totta profondità, l'altro non vuole un'altra. Magari tu arrivi pensando che quella persona lì voglia che tu lavori nella stessa profondità dell'altra, ma invece non è così. Infatti prima che il conto terzi si metta al lavoro di solito si parla e si spiega proprio bene bene cosa vuoi avere in cambio, nel senso come vuoi avere il lavoro fatto. Bisogna sempre fare un po' attenzione, soprattutto il conto terzista deve fare attenzione a chi va a lavorare al terreno, perché i campi non è che si lavorano a caso. Ogni campo ha un suo inizio e una sua fine. Se tu lo prendi al contrario rischi di fare disastri. L'esempio più classico, perché lo sto facendo anche in questi giorni e allora mi viene subito in mente, è quando vai a spandere i liquami. Tu non puoi andare a spandere i liquami a caso, perché sennò rischi che poi dopo i liquami colino al contrario e poi tu te li trovi sotto le ruote. Allora rischi di fare disastri in campo e in strada. Poi un altro esempio è anche passare l'erpice. Non puoi passarlo a caso, perché poi dopo se tu lo passi malamente dopo hai problemi nella semina, perché l'erpice fa dei micro solchi che poi con la semina elettrica si vedono e ci sono dei ristagni idrici. E allora, come dico io, il campo c'è un inizio e una fine e il conto terzista deve saperlo, perché lui logicamente arriva lì la prima volta e non può saperlo. Ci prova, poi può darsi che fa dei pasticci. Invece se ci vai assieme e lo spieghi, è meglio. Ecco, abbiamo visto quelle che sono le dinamiche principali tra chi ingaggia il conto terzista e il conto terzista stesso. Un aspetto fondamentale in tutto questo è che ingaggiando il conto terzista, io come azienda che ingaggia il conto terzista ho la possibilità, a prescindere da quelle che sono le dimensioni stesse della mia azienda, di portare ed usufruire nella mia realtà agricola di tutta la tecnologia, le competenze e l'innovazione di cui dispone il conto terzista e di conseguenza trargli un miglioramento. Sì esatto, perché logicamente con il conto terzista, come abbiamo detto prima, essendo che lui sta sempre al passo coi tempi, ha sempre tecnologie all'avanguardia, riuscirà sempre a farti un lavoro migliore di quello che fai te. Poi ancora se tu non hai i macchinari e sei obbligato a chiamarlo, è logico che sei costretto a far così, perché essendo che sei all'inizio non puoi permetterti il macchinario, allora chiamiamo il conto terzista e di conseguenza, come sempre, perché paghi, pretendi sempre un lavoro ben fatto. Senti Ivan, prima di salutarci vorrei farti una domanda un po' provocatoria. Si è parlato di tecnologia, nuove figure, evoluzione dell'agricoltura, ma quindi spariranno le figure del contadino e dell'agricoltore? Allora, nel contadino secondo me è già scomparsa. Forse, forse ci sono ancora i nonni, però in privato, non chiamiamolo più aziende. Il contadino secondo me è scomparso. Dell'agricoltore no, perché come ti ho detto prima, secondo me l'agricoltore è un imprenditore, quindi non per forza non deve essere lui a lavorare il terreno, l'importante è che lo gestisca. E allora quindi secondo me l'agricoltore non scomparirà, si evolve e si addeva. Penso che abbiamo, diciamo, affrontato tutte, almeno le tematiche principali del contoterzismo. Abbiamo visto un po' anche di dettagli, anche un po' di aneddoti per quanto riguarda il contoterzista e chi ingaggia. Quindi io spero che l'argomento di oggi vi sia piaciuto, che possa anche dare degli spunti e riflessioni. E naturalmente ringrazio Ivan per aver partecipato. Io ringrazio a te per avermi invitato, perché mi è piaciuto veramente discuterne di questo argomento qua. E noi ci sentiamo nel prossimo episodio podcast.